Non c'è storia al Paladolmen, uno stellare Maritai Maugusta batte 8 a 0 il futsal Biceglie e continua la marcia incontrastata verso la Serie A. Non basta una buona prestazione al team di Leopoldo Capurso per arginare la forza della capolista siciliana alla decima vittoria su dieci gare disputate. Avvio di partita equilibrato con il Biceglie ben disposto in campo. Dal settimo minuto la squadra del tecnico spagnolo Micchi accelera il passo e diventa imprendibile. Lemine ruba palla a Baltinio e fulmina Sinigaglia per l'1 a 0 e due minuti più tardi Mancuso raddoppia sugli sviluppi di un corner. Il futsal Biceglie prova a reagire ma al minuto 11 è Crema a siglare il 3 a 0 da banda sinistra. I nero azzurri, nonostante la netta superiorità tecnica degli avversari, vanno vicinissimi al gol con Bavaresco, poi al 14esimo sciupano una tripla palla a gol con Putano che chiude la Saracinesca. Nel finale di frazione il Maritime chiude virtualmente il match con una prodezza di Mancuso che vale il 4 a 0. Nella ripresa la musica non cambia e la squadra siciliana dilaga. Al sesto spampinato libera portavuota Zanchetta che appoggia il rete per il 5 a 0. Un minuto più tardi i ruoli si invertono ed è spampinato a firmare il 6 a 0. Il Biceglie vuole a tutti i costi il gol della bandiera ma la conclusione a botta sicura di Lucas si infrange sul palo. Nel finale Pedrinho e Lemine arrotondano il punteggio sino all'8 a 0. Il Maritime esce tra gli applausi del paladolmen mentre i nero azzurri dovranno necessariamente invertire la rotta dal prossimo match sul campo del San Michele per provare ad agganciare la zona playoff distante solo 4 punti.